Acquistare un computer non è sufficiente a risolvere i tuoi problemi. Devi acquistare quello più idoneo all'uso che vuoi farli. Computer Center, il primo computer shop di Roma. Esperti analisti programmatori a tua completa disposizione. Computer Center, per scegliere insieme il tuo elaboratore. Computer Center, la più vasta gamma di computer per una scelta migliore. Computer Center, all'altezza dei tuoi problemi. Computer Center, all'altezza dei tuoi problemi.